La partecipazione della scuola a questa manifestazione nasce dalla convinzione profonda che la scuola deve educare al senso storico, allo sviluppo di una concezione della vita non solo individuale ma comunitaria segnata dalla dimensione del tempo, dello svolgimento di epoche che trasformano profondamente. E questo è un compito fortemente educativo delle scuole dal momento che in modo particolare oggi sembra che i giovani vivano in un presente che non ha un passato e non ha neanche un futuro. Invece dobbiamo vincere questa sfida ed educarli a una visione strategica, non che la storia sia magistra di vita semmai educare alla visione che la storia è un susseguirsi di trasformazioni talvolta drammatiche, talvolta meno drammatiche. E soprattutto educare i ragazzi che la storia è fatta dagli uomini, è fatta da individui che attraverso le loro relazioni personali, la loro appartenenza a piccole e grandi comunità e diventano così protagonisti della storia della loro comunità, del loro paese e del loro tempo. Grazie a tutti.